Non si siede. Guarda me, guarda me. E adesso si chiederà, se è brado che è davvero un vecchietto, perché resta in piedi? Perché continua a farsi sotto? Tu sei più forte di me. Tieni duro, centro ring, non mollare. Quello, quello è un rullo compressore. Ti attaccherà tutta la sera finché non lo fermerai. Non molla, lo devi fermare tu. Devi battere quel figlio di puttana, devi battere quel figlio di puttana con la forza che hai dentro. Mi hai sentito? Devi andare là, devi andare là e colpire e continuare a colpire fino a che non gli rompi il naso e gli riempi la faccia di sangue. Battilo con la forza che hai dentro, Jim! Con la forza che hai dentro! Che è che è sentato secco da pure, poi Ronaldo che prova a partire più lontano. Ronaldo sfida Max e Ronaldo sinistro! Attenzione Clarence, tiro di Clarence! Clarence, tiro di Clarence, tiro di적인 messi e giù. L'avevo detto, l'avevo detto, l'avevo detto, effetto Serra, effetto Serra, effetto Serra, fai a voi l'occhio, effetto Serra, l'avevo detto, effetto Serra, clare, sono solo, tre due miei ragazzi, fai a dire, fai che tocca la luna, fai effetto Serra, gonna r zeinf respect, questa sc contaminatedkie, fai che tocca la luna, 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 fai che deriva la luna, fai che tocca la luna , fai D吗, Segui il gol del 2-0 dopo 40 secondi Ecco, rivediamo la grande azione di Gattuso C'è il legno che ha passato il pallone Gattuso ha evitato due uomini E poi gli ha dato l'aggiatto Ecco, Ancelotti lo telecato Gattuso che ha bracciato La grande azione di Gattuso Cacca, Spock e Bianco di testa Il gol del 2-0 al quarto Il gol del 2-0 La grande azione di Gattuso Rivediamo ancora La grande azione di Gattuso 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 La grande azione di Gattuso